La partita complicata, però poi l'avete portata a casa. La faccia dice tutto di quanto sia stata complicata, ma lo sapevamo, non era scontato. Loro hanno giocato bene, noi un po' meno bene attratti. Sapevamo, loro hanno fatto 3-2 con tante squadre, anche forti, molto forti. Però siamo felici, siamo soddisfatti, potevamo fare meglio sicuramente, però adesso pensiamo alla Coppa e a Perugia che vogliamo dare tutto. Cosa non ha funzionato in quei due set, in cui sembrava che non girassero un po' di cose? Ma non lo so, dovevo vedere, però secondo me abbiamo faticato un po' in pala alta i primi 2-6. Il primo set e il terzo, abbiamo preso un po' di muri, magari che potevamo giocare un po' più di squadra, magari anche qualche side-out abbiamo sbagliato. Però va bene, loro sapevamo che sono forti e siamo felici.